Andiamo, provo a fermarmi. So dove vogliamo arrivare. Ehi, non ho chiesto io di essere il migliore. Ho sudato per diventarlo. Questo è il tuo campione. Meraviglioso. Quante cavie disponibili. Eccomi, sono il Jav Master. Atterriamo qui. Spero siate pronti. Andiamo, fratelli. Direi di muoverci verso questa parte. Attenzione, prima vittima. Prima vittima. Meno male che non siamo noi. Round 1. Inizio contro la rovescia anello. Qui c'è una sentinella. Chi vuole una sentinella? Qui c'è un Emlock. Qui c'è un caricatore pesante e speso. Livello 1. Tutto mio. Grazie. Qui ci sono munizioni pesanti. Andiamo lì. Abbiamo un nuovo leader uccisioni. Qui c'è un Emlock. Munizioni energetiche. Qui ci sono munizioni leggere. Ne ho bisogno. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 1. Grazie. Di nulla. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 1. Ringraziami quando mi gravo. Grazie. Hai sentito? Grazie. L'anello è vicino. Un minuto alla chiusura. Qui c'è uno shotgun Eva. 45 secondi. L'anello è proprio lì davanti. Attenzione. Il campione è stato eliminato. Andiamo da questa parte. Grazie. Non c'è di che. Ora muovi. Contatto col nemico. Meno di 30 secondi. L'anello è vicino. Capito. Contatto conversato. Dieci secondi. Proprio qui vicino. Facile. Non c'è di che. Non c'è di che. No. Non c'è di che. Contatto. Attenzione. L'anello si sta bruciando. Non vada. Non vada. Mi sta notando. Non vado. Un nemico capato. Lancia il bar. Lancia il bar. Non vieni in corso. Non vado. Non vado. Non vado. Contatti su un nemico proprio qui Uno in meno Nemico vicino Sto chiamando un bombardamento Attenzione controllo da questa parte Nemico proprio qui Mi hanno individuato Mi hanno contatto Sto curando Sto dando una ricarica ai miei scudi Devo ricaricare i miei scudi Contatto Ce l'abbiamo fatta fratelli Squadra eliminata Nuovo leader uccisioni Attenzione Qui c'è uno scudo corporeo Livello 2 Sto guarendo Tengo gli occhi aperti però Drone di guarigione Se ne hai bisogno Ricarico gli scudi Grazie Grazie Mi sto curando Grazie 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 Non c'è problema Non c'è problema baby Sto posizionando un portale Portale piazzato Ostile raggiù Nemico vicino Granata termite lanciata Controlliamo quella zona Andiamo lì Qualcuno ha provato a sparare Ostile laggiù Appartezza sicura Attenzione Sto aprendo i cieli Controlliamo da questa parte Ricevuto Qui ci sono munizioni leggere Direi di muoverci Verso questa parte Qui c'è uno stabilizzatore Kanda Livello 2 Rapp Inizio controlla rovescia anello Attenzione Nave ricordimenti Mi sto curando Mi serve un opam Selettore di fuoco Mi serve un opam Grazie a tutti. Un minuto. L'anello è abbastanza vicino. Sto stabilendo un contatto con il nemico. Ok. L'anello non è troppo lontano. Restano 40 cent... Nemico proprio qui. Contatto con il nemico. Potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte. L'anello non è lontano. 10 secondi all'anello. Almeno è vicino. Controlliamo da questa parte. L'anello si sta muovendo. C'è una torre di lancio qui. Ok. Direi di muoverci verso questa parte. Potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte. Versagno laggiù. Capsula assistenza. Un altro nemico K.O. Fratelli, andiamo da questa parte. Nemico fuori gioco. Riccardo. L'anello 3, inizio controlla relation. Sto ricaricando. Riccardo. Nemico. Sto stupendo danni. Contatto con il nemico. Sto colpendo. Sto ricaricando. Oggi ho fatto il contatto con il nemico. Quello era l'ultimo. Questa dimensione migliora sempre di più. Andiamo lì. Qui c'è una cassa della morte. Attivo lo scudo. Ti sto curando. Grazie. Ti voglio alzare. Qui c'è uno scudo corporeo. Livello 3. Ricarico gli scudi. Ti sto curando. Sì. Sto guarendo. Tengo gli occhi aperti però. Sto dando una ricarica ai miei scudi. Un minuto. L'anello non è lontano. Devo curarmi. Prendo una pausa. L'anello non è lontano. Remangono altre due squadre. Devo curarmi. Prendo una pausa. Ricarico gli scudi. Qui c'è uno stabilizzatore canna. Livello 3. Qui c'è uno zaino. Livello 2. Sto guarendo. Datemi un secondo. L'anello è vicino. Andiamo lì. Attenzione. Ricevuto anello. Ascoltate. La mani vista muove a sulla. Capsula assistenza. Ostile individuato. Andiamo lì. Ricevuto. Ricevuto. E scordiamo che non è la parte. Lancio stelar. Fermite l'aggiornale. Ricarico. Fratelli, andiamo da questa parte. Stemando un portale. Vioggia di fuoco in arrivo. Ahahahahah. Andiamo lì. Ramp. Inizio controllo rovesciore. Ho spostato il portale. Non siamo tutti nell'anello. Controllate la posizione. Lì c'è una capsula rifornimenti. Nemico individuato. Vieni a prendere il tuo regalo di compleanno. Qui c'è un'ottica. Cecchino. Potrebbe farmi comodo. Livello 3. Vieni a prendere il tuo regalo. 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 Siamo nel prossimo anello. 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 Siamo nel prossimo anello.